Ragazzuoli praticamente ufficiale, in realtà dovrebbe arrivare nel pomeriggio però la danno già come tale per cui Euro 2020 diventa Euro 2021 posticipato di un anno l'europeo, nessuna obiezione ci guadagna un po' tutti questo è quello che mi sento di dire ma adesso approfondiamo il tutto prima si arriviamo all'app OneFootball così rimaniamo aggiornati sui vari slittamenti, sulle varie date sulle possibili cause concatenanti di tutto ciò, in descrizione c'è il link, l'app è gratuita c'è solo da fare una cosa molto semplice che è quella di scaricarla, stop, facile, perché dico ci guadagna a tutti, ci guadagna a tutti perché la priorità sappiamo qual è nel calcio almeno per le società, per le stesse leghe, per la UEFA la priorità è terminare le competizioni, le competizioni nazionali e quindi con questa tra virgolette mossa questa possibilità la si può ottenere, la si può percorrere ed è anche giusto così, anche per noi tifosi perché poi io mi sento di dire che il campionato così appeso non mi piace perché resta lì appeso anche se annullano il tutto, non lo diamo a nessuno, però rimani comunque così, annulli tutto e comunque per quelli che c'è la lotta retrocessione che fai rimani così come la classifica cioè il campionato così appeso, ma porto anche l'esempio non solo in Italia, vogliamo parlare dell'Inghilterra stessa dove c'è la Premier già ultra vinto dal Liverpool, che fai? Se non lo termini magari non gliela assegni non lo so poi nei regolamenti specifici come funziona, però il campionato se c'è un modo per portarlo a termine facciamolo pure, è ovvio che poi coronavirus permettendo perché per come la stanno raccontando adesso si vuole ritornare a giocare a maggio, il primo di maggio, perché poi fino al 3 siamo qua in isolamento quarantena e quant'altro, poi i giocatori devono riprenderlo in nuova forma, devono riprenderlo in ritmo per cui si parla anche di un inizio a maggio, cioè è una storia comunque particolare questa qua una storia veramente strana se vogliamo e forse anche unica nel proprio genere perché veramente poi ci ritroveremo un campionato, il clou del campionato in estate questa cosa ancora a me pare una roba una roba una roba molto assurda, una roba che non riesco a immaginarmi sai io sono uno troppo anche categore, però cioè ci siamo capiti? No, non ci siamo capiti però volevo dire che quelle cose, quei cambiamenti che non ti aspetti generano un po' di scombussolamento ecco, forse adesso mi sono spiegato, e questo è il discorso poi per quanto riguarda anche la nazionale stessa secondo me, se proprio vogliamo scendere nel profondo anche la nazionale stessa di Mancini secondo me può guadagnarci da questa mossa ripeto, mossa per forza di cose andava fatta, ecco non è che è stato deciso sì, perché alla fine Mancini innanzitutto ha un anno in più per lavorarci Mancini ha anche rinnovato la rosa, per cui abbiamo anche dei giocatori giovani che l'anno prossimo potranno appunto ritrovarsi più pronti, più adatti mi viene in mente Chiesa, per esempio mi viene soprattutto in mente Zagnolo che non ci sarebbe stato per lo sciagurato infortunio, per lo sfortunato ovviamente infortunio e invece così avrà questa possibilità, avrà un anno in più sul gruppone anche lui ma perché no, lo stesso Tonali a centrocampo, io spero che con un anno in più alle spalle possa comunque ambire a giocarlo questo europeo, perché secondo me Giannel ne ha le doti per farlo questi sono alcuni giocatori che mi vengono in mente, forse invece se andiamo a prendere quelli che hanno un'età più alta, non so se, che ne so, per esempio adesso Immobile quest'anno veniva da una stagione veramente senza precedenti, l'anno prossimo non sapremo ma sicuramente Immobile e questo qua comunque può cambiare poco in un anno vediamo, vediamo un po', vediamo un po' tutto, fatto sta che non avremo l'europeo quest'estate, l'avremo l'anno prossimo, quindi in poche parole l'anno prossimo avremo l'europeo fra due anni avremo il mondiale in estate, non si finirà mai di giocare, sarà un continuo e quindi riprendiamo le parole un po' di tutti, magari ecco questa pausa di adesso pausa di adesso, poi farà sì che tutto sarà più bello magari dopo, chi lo sa, almeno per noi spettatori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, likeate, se vi va perché no, iscrivetevi al canale, un grande abbraccio virtuale da Neschi